Musica Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro TG Plus che ci porta a parlare di nuovo perché in realtà forse i nostri telespettatori più assidui lo ricorderanno di un tema di estrema attualità ma che forse pochi di voi conoscono nel dettaglio, la protezione dei dati personali era stata una delle nostre puntate nella scorsa stagione di Link e avevamo avuto anche un gran successo nel senso che tantissimi di voi avevano poi chiesto dettagli, curiosità su che cosa significhi poi nella praticità e nella quotidianità proteggere i propri dati personali e allora questa sera ritroviamo i due protagonisti di quella trasmissione di allora Buonasera e ben trovato a Mario Vantaggi che è l'amministratore di Euristica Buonasera E ben trovato Buonasera e ben ritrovato all'avvocato Emanuele Floridi che è proprio un esperto di sicurezza informatica Ben ritrovato avvocato Grazie e buonasera Allora perché ci rincontriamo quest'oggi? Perché c'è un appuntamento che Euristica promuove proprio nei prossimi giorni Un seminario, in realtà sono tre, è lo stesso seminario come dire ripetuto in tre località proprio per dare la possibilità a più persone di partecipare dal titolo Protezione dati, una responsabilità di tutti E allora Mario, che cos'è questo seminario e quando è l'appuntamento? Buonasera intanto a tutti di nuovo Dunque, come hai detto giustamente tu Cinzia, gli appuntamenti sono tre Quest'anno finalmente siamo riusciti a riaprire un po' i battenti anche per poter parlare direttamente, affrontare e approfondire un po' le problematiche che sono quelle classiche legate alla normativa del GDPR al trattamento dei dati personali un po' illustrando le novità, quello che è cambiato abbiamo delle novità proprio fresche e fresche che poi l'Avvocato Florindi ci spiegherà nel dettaglio abbiamo programmato tre eventi che sono in presenza con ovviamente un numero limitato la prossima settimana il 19 qui a Gubbio lì è il complesso di San Benedetto il 27 invece a Perugia presso il Parco Hotel lì a Ponte San Giovanni e invece il 10 di novembre su a Città di Castello perché abbiamo cercato di coprire un po' l'intera provincia Umbra visto che abbiamo un bacino che poi è molto più ampio diciamo non solo della provincia ma anche della regione a Città di Castello e al Garden Hotel esattamente tutti gli appuntamenti sono a partire dalle ore 15 esattamente chi può partecipare? possono partecipare tutti i seminari sono gratuiti però chiaramente in presenza c'è l'obbligatorietà del Green Pass quindi secondo diciamo le nuove normative che entreranno in vigore domani e in più ci sarà la possibilità per cui tutti quelli che sono interessati e io caldamente invito tutti ad andare presso il nostro sito stiamo facendo diciamo una mailing abbastanza a tutti i clienti le aziende, gli enti che possono essere interessati tutti i riferimenti sono sul nostro sito è possibile registrarsi selezionando uno dei tre eventi ed è possibile ovviamente avere anche una diretta streaming utilizzando diciamo la piattaforma di Arancia Live per cui noi invitiamo a venire in presenza però purtroppo il numero è limitato sarà limitato per i motivi legati al Covid e quindi sarà comunque possibile prenotarsi avere diciamo un link diretto e collegarsi in diretta sulla piattaforma in streaming a quale sito si devono collegare per leggere tu il vostro sito è? allora sì il nostro sito è www.euristica.com poi di lì c'è la possibilità poi di navigare molto semplicemente c'è una form di registrazione molto semplice con i dati chiaramente ovviamente in ottemperanza la normativa della privacy perché anche questo è fondamentale perché sennò poi insomma i protagonisti di un seminario non possono violare le norme che va in giro con le scarpe rotte e quindi molto semplicemente si registra uno si prenota per diciamo un posto in presenza in una delle tre sedi abbastanza velocemente sono andato per quella di Gubbio e per quella di Perugia ecco che la ricordiamo ricordo io il primo appuntamento l'ha detto Mario il 19 di ottobre ovvero martedì prossimo a partire dalle ore 15 al refettorio del complesso di San Benedetto a Gubbio poi in chiusura magari ridiciamo anche le altre date andiamo dall'avvocato Floridi che io ho chiamato Floridi ma tanto ci perdona lo stesso per l'accento sbagliato allora il tema è ampio quanto complesso quanto sconosciuto hai più la protezione dei dati una responsabilità di tutti ma partiamo da forse il dato come dire più attuale da proteggere perché oggi è il 14 ottobre domani entra in vigore l'obbligatorietà del Green Pass per tutti i dipendenti del settore sia pubblico che privato che problemi che dati sono questi e che problematiche innescano ma allora dal punto di vista pratico il controllo del Green Pass non presenta problemi particolari rispetto a qualsiasi altro tipo di controllo il grosso problema è che è massivo e che di fatto richiede da parte degli enti e da parte dei datori di lavoro una ristrutturazione della gestione degli accessi perché chiaramente ci sono tutta